e ancora una volta ciao ragazzi e ben ritornati sul mio fantastico video raga questo è un gioco chiamato il clima e oggi e lo faccio provare vediamo sfida giornaliera campo reclute inizia questo è il campo reclute no sono già morto raga riproviamo e dai forza mi fai sprecare la benzina forza no benzina riproviamo raga ecco in questo punto è sempre più difficile ecco no aiuto no era dall'altra parte riproviamo e dai ecco a 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 no 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 raga spero che abbiate capito lo scopo i no to no raga non ce la faremo mai aiuto no raga scusate ma ho visto l'ora che poi devo andarmi ho tenito i gemmi eh niente eh niente o tieni i gemmi non capisco lo scopo raga vabbè mi scarico un altro di questo e ci vediamo al prossimo video da mille stendini out 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 no 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 no